Non ci pensate? Brutto, non è vero. Immaginate come si sentono loro. Lavorare per migliorare la vostra vita, senza neanche un grazie. Soli, senza amore, feriti. Abusi fisici, verbali, emotivi, per ottenere ciò che noi vogliamo. Non vedete che fanno del loro meglio? Non vogliono la luna. Cercano solo di conquistare un piccolo spazio nei vostri cuori. Ricordate, macchine sono piene di bambini.